Una curiosità, ho letto un po' in giro varie biografie di Carosone in cui si dice che il figlio in realtà Pino è figlio suo, nato un anno dopo il matrimonio con Lita, nato a Roma il 28 maggio del 39. Quindi mi chiedo se questa cosa del figlio appunto che è solo di Lita e che lui ha riconosciuto con amore immenso è una cosa che è scritta nel libro di Vacalebre che io confesso e mi scuso non ho fatto in tempo a leggere, oppure se è una libera interpretazione degli sceneggiatori, del regista. Possiamo dire soltanto di non fidarsi di Wikipedia. Ho trovato anche degli articoli in cui parla, in cui c'è anche proprio Pino e si racconta appunto questo, ma è una domanda, curiosità, nulla di... Cosa che ha rivelato Pino nel primo incontro con gli sceneggiatori e con Sidney è una cosa che nessuno sapeva e lui ha voluto invece che noi raccontassimo. Quindi diciamo tutto quello che avete letto fino ad oggi non è realtà, mentre quello che raccontiamo nel film è quello che effettivamente è successo. Cioè nel libro di Vacalebre c'è che il figlio è solo di Lita oppure è una cosa che ha rivelato appunto il Pino Carusone a voi del film? Non è solo per il film, non c'è nessuna biografia, non c'è nessun articolo, non c'è nessun profilo Wikipedia, è una cosa che raccontiamo noi per la prima volta, giusto? Sì ed è assolutamente vera, cioè diciamo è una... Pino è stato molto generoso da questo punto di vista a condividere per noi una cosa così, diciamo, delicata. Ma non è che non ci credo, volevo capire se era nel libro oppure no, quindi nel libro di Vacalebre non c'è. È lo scoop diciamo di questo film. Fantastico. Potremmo chiamarlo scoop. Grazie mille, grazie. Nasce tutto che eravamo in un bar e parte tuo fallo americano e ci siamo chiesti ma che figata questa canzone, nel senso che sono canzoni famosissime. Ci siamo chiesti come mai non era ancora stato fatto un film sulla vita di Renato Carosone, che è stata comunque una vita straordinaria. In realtà per vari motivi, perché Renato Carosone ce l'ha messa tutta per stare dietro alle sue canzoni. È stata una vita in cui spesso i cantanti sono più famosi delle canzoni che hanno fatto. Questo è un caso stranissimo nel mondo in cui c'è delle canzoni famosissime e una persona che si è sforzato per stare dietro, perché l'importante era intrattenere il pubblico, non era mostrarsi. Un sacco di canzoni non le cantava neanche lui, le faceva cantare alla sua band. Non c'è una foto di Renato da solo, è sempre con la band. Lui condivideva il successo con tutti. Quindi noi abbiamo cercato invece di dare omaggio proprio anche al personaggio Carosone e insomma è nata così l'idea. A noi ci emozionava molto da artisti, tra virgolette, una persona che ha questo approccio rispetto a quello che fa, che non bisogna badare tanto al cantante quanto a quello che fa. L'importante è che la gente si divertiva e questo per noi è stato uno dei motori che poi ci ha spinto a realizzare questo film. Volevo ringraziare gli autori, oltre che appunto Lucio Pellegrini, anche Federico Vacalebre, Giordano Meacci e Francesca Serafini che hanno diciamo concepito editorialmente il progetto con noi. E poi devo dire questa volta più di altre, è la prima volta che ci lavoriamo in realtà, quindi diciamo più di altre, nel senso che ho sentito veramente un grande calore da parte di Fabrizio Zappi, anche di Marta Ceto che ci hanno seguito, perché insomma era un progetto che aveva una sua piccola componente visionaria all'inizio, perché insomma l'abbiamo veramente costruito insieme, abbiamo lavorato al testo, c'è stata una collaborazione fra Corellandi e Ray Fiction che non sempre si riscontra in questo mestiere, quindi devo dire è stata un po' una piccola famiglia che si è creata, è stato appagante, divertente e molto piacevole. Nessuno sa più chi è Carosone ma il tuo fallo americano lo conoscono tutti quanti, quindi in qualche modo ci sembrava interessante provare a raccontare un personaggio che è stato così esplosivo nella storia della nostra musica, che aveva una storia personale molto interessante, compresa soprattutto quella del ritiro così precoce e prematuro, e in qualche modo ci dava la possibilità di mettere in scena anche la storia di una rinascita che è quella di un paese dopo la guerra attraverso la musica, attraverso il talento, attraverso la condivisione del talento e dell'intrattenimento intelligente. Allora attraverso questa piccola connessione che poteva esserci con i nostri tempi, con quello che speriamo che accadrà presto, quando usciremo da questo momento molto complicato, ci piaceva provare a raccontare questa storia, la troviamo ancora profondamente attuale.